Siamo di nuovo per le ricerche legando per vino.com. Oggi una ricerca molto semplice, una fettura di calamaretti e spillo, venite a vedere che belli, guardate qua che belli, che lucentezza. In abbinamento, selezione in esclusiva di Pino Nero 2020, abbinamento sì un po' creativo, Pino Nero 2020, quindi un vino fresco, giovane che gioca tutto sul frutto, sulla parte floreale, guardate che bel rubino, porpora, queste note di peonia, rosa selvatica, questo tocco di lampone. Ci osserviamo addolcidato, un po' più fresco, così esatto l'acidità, la tensione e questo è un bel frutto, questo è quasi al grumo in bocca. Per la nostra frittura abbiamo due tipi di farina, farina di riso e farina doppio zero, in proporzione tra un quarto doppio zero e un quarto farina di riso. Le andremo a mescolare bene, infarineremo i nostri calamaretti e le andremo a friggere. Stiamo portando l'olio a temperatura, intanto infariniamo bene i nostri calamaretti a spillo, infarinati bene, ben mescolati e poi andremo a friggere. Stiamo a friggere i nostri calamaretti, non vedo di provare l'abbianamento, sto pino d'ero servito fresco, bellissimo, una frezza, che profumi, mi piace proprio. Ho buttato i calamaretti, qualche minuto e saranno cotti. Che colore ragazzi, che belli. Ecco, ci siamo. Guardate che fritturina ragazzi, guardate che fritturina, è il vostro gardo. Ed ecco qua il piatto, guardate che roba, proviamoli. Una bontà. Grazie. Grazie. Grazie.